Il campo di campionato sul sintetico hockey della barca tra Anzolavino e Barcareno. Anzolavino subito pericoloso con il numero 10, parata di Davito. Questa partita doveva disputarsi sul campo dell'Anzolavino, ma il loro campo è indisponibile per cui si gioca qui. Decisamente contratto l'inizio partita per il Barcareno. Qui si tenta un'azione in contrapiede con Gianni, Bonafè e Gamberini. Poi con Tagliori, Midiocchi e Barbero. E ancora con Gledion, Gianni e Bonafè. Il primo tiro in porta per il Barcareno, però Midiotti da lontano tira fuori. Cioè, la tira ma il portiere la para. Ci c'è un grande salvataggio di Taglioli. Ancora Taglioli che intercetta, poi altro contrapiede. Gamberini, Gianni e Bonafè sulla sinistra. Poi Gledion per Gianni, ma il passaggio viene intercettato. Ancora Gamberini, Gianni e Bonafè, ma non c'è nessuno a raccogliere il cross. Parata di Davido dopo un rimpallo. Gamberini per Orlando, ma il portiere esce bene in anticipo. Inizione di Midiotti senza esito. Ancora la Barca tenta di andare in avanti. Colpo di tacco di Gianni, D'Andrea per Gamberini, ma non va. Ancora un colpo di tacco di D'Andrea, cross di Bonafè senza esito. Continua ad andare però! Secondo tempo, Midiotti per Orlando, anticipo. Qua vediamo l'azione. Anticipato Luca che non va in gol. Nessuno contrasta l'avversario, gol facile, passano in vantaggio qua. Marcelinaro parla il tiro da fuori degli avversari. Che raddoppia da subito dopo. A volte tra compagni non ci si capisce. Sulla fascia di D'Orlando, l'azione non ha esito. Tira! Perianni tenta un'azione sulla sinistra. Qui tentiamo un altro attacco. Attento Lorenzo ti salta, attento che ti salta. Bravo, bravo, bravo. Ma purtroppo gli avversari ripartono in contrapiede. Ancora lì, ancora lì. Guardiamo la palla. Il contretto che sono in porta. Collina prova a tirare in porta. Altro tentativo da fuori. Lanzolavino ci riprova. Parata di Marcelinaro. Bel passaggio di Orlando per Didu. Purtroppo il prossimo riesce. Vai, ricorsa! Vai dentro, vai dentro, vai dentro! Vai dentro, smarca! Nico! Biondi per Medioti, ma il passaggio successivo parte con un attimo di ritardo. Vai, dalla, subito! Ma ecco, vedi, perché aspetti? Ma no! Biondi lotta tra due avversari. Azione di contrapiede impostata da me. Quasi gol di Orlando. Bravo, bravo, bravo! E' toglie! Lanzolavino senza un contrapiede. Guarda che vai senza palla. Guarda la palla, bravo, guarda la palla! Guarda la palla! Terzo tempo, Lanzolavino subito in avanti. Fuori, fuori! Fuori, fuori! Tiro, tiro! Bravo, bravo! Bravo, bello, bravo! Taglioli intercetta e imposta la ripartenza. Uno, due, Orlando Gamberini, che poi non si intende con buona fe. Gamberini ruba palla e serve Orlando. Il difensore contrasta, ma il rinpaolo favorisce Gamberini. Cross che la difesa intercetta. Qui purtroppo veniamo sorpresi da un lancio in profondità. L'attaccante scatta e il sacco con un pallonetto. Guardiamo! Cunizione di Migliotti, preda della difesa. Faccio d'angolo senza esito. Ripartenza avversaria che Igna interrompe. Migliotti passa per retta, uscita del portiere. Qua vediamo l'azione, infatti. Qua c'è la grande uscita di Matteo e Davito. Azione avversaria, tiro cross che Marcellinaro intercetta. Vediamo qua. Poi c'è un'altra azione. Su quest'altra invece azione avversaria. Il contropiene in superiorità numerica, ma non va. Siete in quattro contro due? In quattro contro due? In quattro contro due? Bella uscita, alta di Marcellinaro. C'è un altro gol avversario, subito dopo finisce la partita. Grazie. Grazie.